Bellezza, stile, potenza e una assoluta e totale affidabilità, ieri come oggi, la Mercedes è a tutti i livelli una vera garanzia. Poi arrivano le edizioni speciali da non perdersi, quale? Scopriamolo. Molto spesso nell'universo delle quattro ruote arrivano degli eventi, delle presentazioni o delle nuove edizioni che in effetti sanno prendersi la scena, poche ci riescono però come la Mercedes. Di che vettura stiamo parlando? In particolare, per dare un termine ancora più preciso, si sta discutendo della nuova Mercedes QB Tech Edition, che è l'ultimo ritrovato in ca. Da quale punto di vista? In realtà, non solo da uno, la nuova, nuovissima edizione della Mercedes è un vero gioiello dal punto di vista della innovazione, sia motoristica. Da quale punto di vista? In realtà, non solo da uno, la nuova, nuovissima edizione della Mercedes è un vero gioiello dal punto di vista della innovazione, sia motoristica. Da quale punto di vista? Una vettura dai forti contenuti, questa della nuova edizione special, che, soprattutto, si attiene in modo diretto, preponderante alle esigenze della sua clientela. Una vettura dai forti contenuti, e non solo a chiacchiere, anzi. Un esempio lampante di questo concetto risiede nel fatto che, tanto per dirne una, la dotazione di questa Mercedes QB Tech Edition ha, di serie, previsto di dotarsi di un nuovo. Un esempio lampante di questo concetto risiede nel pacchetto innovativo, ricco, ricchissimo di connessioni e interazione web, ma non. Il sistema delle interazioni prevede un avanzato meccanismo di assistenza alla guida. In più, la relazione con il cellulare del guidatore sarà totale con il sistema smartphone integration e, poi, quello aggiuntivo che permette di riconoscere i segnali. In più, la relazione con il cellulare del guidatore sarà totale con il sistema smartphone integration e, poi, quello aggiuntivo che permette di riconoscere i segnali. Un aiuto clamoroso, questo. La Mercedes in questione poi alletta anche un po' tutti, nel limite quasi dell'impossibile, a livello di estetica e colorazioni, dalle metallizzate grigie al bianco digitale, passando la Mercedes in questione.